Dal primo anno, la prima copertina fatta con Stefano Eco, il figlio di Umberto Eco, il vinile, allora c'erano gli albi dell'87 e qui abbiamo le 12 copertine di quelli che sono stati i dischi del periodo 1987-1998. L'infanzia ma anche gli anni d'oro di Arezzo Wave racchiusi nel calendario 2023. Gli anni d'oro, i primi anni che hanno visto Ben Harper, Manu Chao, Inegrita quando erano ragazzini piuttosto che Deb Matthews, Ivano Fossati, Scancananzi, David Birn, tanti 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 personaggi e oggi volevo presentare e regalare questo calendario esclusivo. Una cosa molto limitata, noi abbiamo fatto 200 copie e 40 le daremo al Calcit che è un nostro amico da sempre e che potrà venderli solo lui. La fondazione Arezzo Wave è pronta anche a lanciare il non capodanno il 30 dicembre al cast di Pescaiola in occasione della consegna delle borse di studio da parte di Coenè. E noi saremo lì a allietare poi questa premiazione con due dei tre gruppi che avrei portato il 31 al capodanno, però lì abbiamo perso e quindi faremo il non capodanno. E presenteremo sia Izueno che è un gruppo fantastico di Genova votato come il miglior gruppo Under 21 quindi molto giovanile e poi dopo la periscena faremo il recovery band che è il gruppo mitico di Arezzo, dal cuore giovane diciamo non tanto anagraficamente, che ci faranno ricreare l'ambiente degli anni 60 che volevamo fare in piazza, che in piazza avremmo fatto una cosa eccezionale ma appunto anticiperemo il 30. Grazie.